Dopo l'autorizzazione di AIFA e le indicazioni del Ministero della Salute, la Lombardia dà il via alle vaccinazioni anti-Covid-19 in favore dei bambini dai 5 ai 11 anni di età. Le prenotazioni inizieranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale online e da giovedì 16 dicembre partiranno le iniezioni. In Lombardia, ha spiegato la vicepresidente dell'assessora welfare Letizia Moratti, la platea è interessata di circa 600.000 ragazzi e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno, il sabato e la domenica. Intanto prosegue a buon ritmo nel territorio lecchese la somministrazione delle terze dosi. Il 21% della popolazione complessiva ha già ricevuto la dose aggiuntiva o booster, prima provincia in regione. Una corsa cruciale per evitare un nuovo boom di contagi e ospedalizzazioni. La nuova variante Omicron potrebbe nel giro di poche settimane diventare dominante anche in Italia, avvertono gli esperti. E i primi dati non sono rassicuranti. Due dosi di vaccino non sarebbero più sufficienti, nemmeno entro sei mesi dalla seconda iniezione, per fermare con efficacia la nuova variante, più contagiosa di Delta. Serve la terza. Ad oggi sono 58 i pazienti covid positivi ricoverati all'ospedale di Lecco. 9 sono in terapia intensiva, 7 con il casco C-PAP. In buona parte però sono persone provenienti da altri territori inviate al Manzoni nell'ambito del sistema di ridistribuzione regionale.